eccoci ritrovati per una nuova ricetta super super veloce con pochi ingredienti e pratica da fare un po all'ultimo minuto può essere sia un sfizioso antipasto oppure anche un primo si tratta di una tasca con pasta sfoglia e verdura io metto anche un po di mozzarella perché rende più filosa la ripieno però lì dipende un po dei vostri gusti andiamo quindi a tagliare le verdure a cubetti piccoli piccoli ed ecco qua le nostre due carote due zucchine tagliate a cubetti come vedete a me piace che siano cubetti piccolini ecco non troppo grandi adesso andremo a spadellarle un pochino a me in genere non piace aggiungere molte spezie o molti condimenti e soprattutto quando si tratta di verdure mi piace che siano molto naturali quindi aggiungerò solo un filo d'olio però poi a vostro piacimento se volete aggiungere anche un pizzico di sale e un po di pepe andremo a spadellarle fino a che non saranno quasi completamente cotte le nostre verdure per il ripieno sono cotte adesso le terremo da parte in modo da farle un pochino raffreddare e nel frattempo procediamo col tagliare a cubetti la mozzarella una volta che le verdure saranno raffreddate possiamo procedere con la nostra tasca allora sorrotoliamo la pasta sfoglia rettangolare versiamo nella parte inferiore della tasca le verdure poi io come vi dicevo anche preparato una mozzarella per rendere un filante il ripieno voi se dovete prepararla per amici vegetariani o vegani potete sostituirla con del formaggio appunto vegano allora messa messe le verdure andiamo a mettere la nostra mozzarella oppure il nostro formaggio vegano o anche senza e poi andremo a chiudere ecco allora abbiamo messo bene sia le verdure che la mozzarella oppure il formaggio spalmabile il forno è già preriscaldato modalità ventilata a 180 gradi e dovrà cuocere per circa un 20 25 minuti poi come sempre dovete dare un'occhiata anche in base al vostro forno bene chiudiamo come avete visto bene la vostra tasca casomai aiutatevi anche con la forchetta in modo che non fuoriesca la parte più liquida delle verdure e andiamo a infornare ed ecco la nostra tasca pronta per essere tagliata ed ecco la nostra tasca con le verdure pronte per essere servita se vi è piaciuta questa nostra ricetta ricordatevi di mettere mi piace ed iscrivervi al canale